E' la malattia genetica più diffusa, purtroppo non guaribile. La fibrosicistica procura un'aspettativa di vita media inferiore ai 40 anni e le cure attuali sono complicate e occupano parecchie ore del giorno. L'ospedale Mazzini di Teramo, presso la divisione di pediatria, ha un centro di riferimento regionale per la fibrosicistica tra i più all'avanguardia. E grazie ad una donazione eseguita da una cospicua raccolta di fondi di circa 19.000 euro, possiede la Zephyr Monitoring Recorder, macchinario di ultima generazione per il monitoraggio del reflusso gastroesovageo. Uno strumento di ultima generazione che dà un qualcosina di più rispetto ai vecchi strumenti che erano in commercio fino a poco tempo fa. Per entrare un po' nel tecnico ci permette di valutare i reflussi anche non acidi, cosa che gli altri non facevano, quindi potremo avere dei dati diagnostici un po' più completi. Già in passato altre attrezzature sono state donate al centro, grazie alle raccolte promosse come questa volta dai volontari di Canzano, che sono riusciti a far convogliare le forze di tanti altri soggetti e associazioni come Fidas, Federfarma e altre ancora. Devo dire che lo facciamo con quasi orgoglio perché sono delle persone eccezionali che, come dicevo, da anni riescono a raccogliere soldi a sufficienza per comprare attrezzature tra l'altro anche abbastanza costose. Siamo felici di aver sponsorizzato e di aver affiancato questa associazione che sono delle signore di Canzano che hanno recepito soldi, hanno preso soldi e fatto un apparecchio che può essere utile a questa patologia molto importante dove bisogna anche intervenire con un fatto più che altro solidale.